ragazzuoli buongiorno per il dopo i way in c'è zapata ne parliamo ne parliamo prima scarichiamo l'app one football così rimaniamo aggiornati su quello che è il mondo del calcio link in descrizione app gratuita basta scaricarla sono un po sono un po sono un po ieri ho parlato di duvanone della sua qualità della sua forza un car armato un car armato con l'eleganza di una cadillac duvanone zapata ecco ecco la juventus lo sta già trattando trattando da tempo si parla di 30 milioni più per il 30 milioni più per il ma sapete qual è la cosa più ridicola sapete quale è che vai un po a leggere a me piace consulta sconsultare twitter c'è ancora chi lo fa e il buon neschi è uno tra di questi sapete su twitter si leggono i commenti di molti tifosi juventini scettici no ma magari di per i non mi frega niente ma zapata non lo so forse mi preoccupo un po ma fuori dal contesto ma cosa stiamo platterando ma cosa stiamo platterando sapate un attaccante fortissimo non si discute nel modo più assoluto il valore di duvanone ma non esiste proprio un attaccante che ha due piedi due cosci così due cosci così già ma per casi e per casi per casi per casi a costo di vedere un atalanta che anno dopo anno ci finisce davanti non ti permettere di vendere duvanone ma sicuramente non a quella cifra per casi ascolta ascolta lo zioneschio non ti permettere non ti permettere non ti permettere ma non esiste proprio ma ma stiamo scherzando anche lo scetticismo genere ma che scetticismo che scetticismo 30 milioni per zapata più più per in per carità bravissimo ragazzo sarà sarà fantastico però che che dobbiamo fare che poi l'atalanta c'ha gollini c'ha gollini che secondo me non dico ormai mi viene da dire non dopo donna ruma insieme a donna ruma rappresentano il futuro dei portieri in italia quindi quindi che ci deve fare co per in che facciamo veramente riproponiamo lo scambio carini cannavaro ma ma stiamo ma stiamo scherzando ma vogliamo proprio ma no per per carità poi ricordiamolo ricordiamolo zapata innanzitutto è un investimento importante che fece l'atalanta 25 milioni e non credo che vanno lo vadano a accedere per 30 ma stiamo stiamo ma non esiste anche perché cioè 30 milioni noi ci abbiamo preso cagliardini da dall'atalanta se non sbaglio il mina ci ha preso che sì a 25 è ovvio che magari questa questa magari è un'offerta di di partenza ma per zapata ci vuole ci vuole molto ma ma molto di più ripeto me lo avro perché a 30 milioni più per il per avere per arrivare a zapata è un affarone e non lo scetticismo cioè il bello è lo scetticismo lo scetticismo non lo so non lo so qualcuno diceva ma questi non sono giocatori per sarri sarri lo ha avuto al napoli è stato proprio l'anno in cui poi zapata è andato via non è l'attaccante la juventus l'anno per esempio aveva manzukic e uno come manzukic è stato è stato fatto fuori però ricordo anche che questi suoi giocatori con caratteristiche sono anche ricercati dalla juventus stesso io mi ricordo inizio anno scorso la juventus era sul lucaco ecco e questo va va ancora una volta questo questa trattativa va a rafforzare nuovamente la tesi e la juventus è anche su gente su attaccanti come come milic quindi qui questi questi giocatori interessano interessano alla juve al giorno al giorno d'oggi e io credo che possano essere dei partner ideali per ronaldo perché senza zapata e lo metti la zapata ti ripulisce ogni pallone te lo ripulisce sempre e poi glielo appoggia tranquillamente a ronaldo questo credo che questo sia sia abbastanza indicativo però ripeto per cassi non esiste ma il cario il caro amico per caso mai siamo amici di vecchia data con lui lo saprà bene ma una telefonatina glielo dico io non t'azzarda ma non t'azzarda ma non t'azzarda vabbè vediamo vediamo un po cosa ne esce fuori un po sono un po turbato lo sono sono un po turbato se proprio vogliamo dirla tutta ma va bene così ripeto casino generale un grande abbraccio ci becchiamo dopo per le partite pomeridiane e anche se reali un grande abbraccio